Giuristi ed economisti a confronto a Napoli sul tema la Costituzione di cui l'Italia ha bisogno, il convegno organizzato dall'Associazione Riscossa Italiana Diritto ed Economia per la Democrazia Costituzionale, svolto nella Sala Cirillo del Palazzo della Provincia. La tavola rotonda alla quale ha portato i saluti il sindaco Luigi De Magistris, ha riunito esperti di diritto con l'obiettivo di analizzare i problemi di grande attualità relativi alla riforma della Costituzione e riportare all'attenzione generale i valori fondanti della Carta nella consapevolezza di dover modernizzare il Paese. Quindi sarei molto caldo in questo momento in cui le larghissime indese stanno modificando la Costituzione pubblicana, non voglio entrare in un dibattito contingente, ma questa Costituzione che nasce sul sangue degli italiani, io me la terrei molto cara anche per un motivo semplice, che è molto ancora contato dall'essere attuale.